allora come sapete 100 domande in 100 giorni sui vari social vi faccio un mucchio di domande eccola qui allora prima domanda ogni quanto effetto il backup dei dispositivi e il risultato è praticamente normalmente la maggior parte e anche settimanalmente ma vabbè ci fidiamo dai però gli altri 70 anche quello del 17 poverino rientra per me ne raramente i dati cioè voi dovete io vi dico una cosa aspetta me la dico così allora vi dico una cosa provate per un secondo ma io farò un secondo cinque secondi di silenzio però fatelo nei miei cinque secondi di silenzio vi prego provate ve lo faccio per voi cinque secondi di silenzio da adesso in poi dopo che avrò detto la seguente frase che è fatta e finta in questo momento che il vostro computer il vostro telefono scompaia non c'è più niente non c'è più cosa avete perso allora adesso farete una riflessione su cosa avete perso provateci un secondo pensate a cosa avete perso se non ci fosse più il vostro hard disk il vostro telefono il vostro più niente che cosa foto delle cose che cosa pensateci un guaio è un guaio succede sappiate che succede allora quando succede tutti disperati giustamente è un guaio grosso disperati pagherebbero milioni per riavere quelle foto per riavere quel dato però prima no chi se ne frega allora pensateci andate a verificare che il vostro telefono faccia backup costantemente il mondo iphone eccetera ce l'ha integrato andate a vedere che tutto a posto che faccia backup su iCloud lo fa in continuazione ma che lo faccia andate a vedere invece nel mondo android idem stessa cosa vedere che faccia backup su google drive che si è attivato google drive che siano attivati tutti questi tipi di backup per le foto soprattutto installate io vabbè alcuni di voi c'erano già comunque una roba alternativa doppio backup io utilizzo anche google foto che backup a tutora accanto a pagamento chi se ne frega basta che mi backupi le foto che sono una delle cose più importanti documenti backupati almeno su due posti un sistema tipo dropbox o simili e l'altro quello direttamente del computer che di solito nel caso di apple è appunto il mondo è cloud nel caso di microsoft è box eccetera eccetera quindi boom 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 backup fate finta che abbiate perso tutto ragazzi se non è un guaio qua cosa dice dice vi racconto una chicca quando è iniziato il duro lavoro informatico dice salvatore parisi il manuale cartaceo delle bm cartaceo è certo aveva la prima pagina completamente bianca con solo tre parole backup backup perché è così perché è così allora ogni quanto cambia passo del tuo account quasi mai praticamente i signori ogni tanto i signori quasi mai sappiate che c'è qualcuno che sta guardando le vostre robe se vi piace cioè c'è qualcuno che dentro anche il posto più stupido cioè non so facebook anche dentro è là che si fa i fatti vostri messaggi quando scrivi come sui cori io no perché è lì c'è qualcuno che ve lo legge e quindi se non volete che uno vi legga i fatti vostri e magari non ve lo dice ve lo dice tutto alla fine però ormai tanto pensate a tutti i software che leggono le vostre email in automatico ma tu dici ma che cosa vogliono leggere dalla mia mail ma chi se ne frega cosa scriverò mai è peccato che però quando vi mandano un iban un iban per fare un pagamento è lì che loro vi sostituiscono la mail con quella con l'iban loro e i soldi vanno dall'altra parte quindi la password andate a cambiare anche adesso non vi faccio più cinque secondi di silenzio ma cambiate da questa password o qua dice lina rando solo quando scade o me la dimentico ciao dati non spesso quando dovrei brava barbara spesso credo però sia importante attivare il riconoscimento a due fattori bravissimo praticamente è quindi quel sistema per cui anche uno con la vostra password non può entrare perché perché ha bisogno di avere anche un secondo codice che di solito è temporaneo e vi arriva via sms attenzione perché se vi tengono bene d'occhio gli sms sono facilmente bucabili facilmente bucabili quindi nella massa non ve lo portano via ma quando uno dice aspetta che questo lo becco me lo voglio fare cioè voglio portarmi via voglio entrare nelle sue robe perché c'è un motivo sappiate che dovete usare vi conviene usare un'applicazione come autenticator perché gli sms si bucano con grandissima facilità ultimo hai mai cercato ricette online per cucinare si spesso qualche volta come vedete online cibo se ne parla un casino tant'è che è un periodo in cui i venditori di corsi i guru i co quelli che sanno fare i soldi online in poche parole sono buttati nel cibo perché è un mondo in cui online si fanno soldi in questo momento a volte uso anche alexa dice che mi dà la ricetta passo passo ogni passo l'ex di alexa dimmi la ricetta è una bella roba è un buon modo per come dire sfruttare bene la tecnologia soprattutto per il furbacchione ogni quanto effetti backup che ci fa ve l'ho messo due volte ho sbagliato le vostre domande